2.000 dosi cedute al mese, principalmente di cocaina, per un giro d'affari di 100.000 euro. I carabinieri della stazione di Giussano hanno denunciato per spaccio un 36enne di origini marocchine, da tempo in Italia ma senza fissa dimora, e un 55enne Brian Solo, entrambi pregiudicati. Le indagini sono partite nel gennaio del 2021. I carabinieri colsero in fragranza il 36enne mentre cedeva una dose di coca a un acquirente. L'uomo aveva tentato la fuga, scappando in auto in retromarcia per 200 metri, prima di finire in un fossato, realizzando tabulati telefonici, testimonianze e fotografie. I militari dell'arma hanno ricostruito l'ingente giro di spaccio tra Giussano, Briosco e Inverigo, attività che avveniva grazie al supporto fornito dal 55enne che, in cambio di cocaina, aveva messo a disposizione la propria abitazione, diventata un laboratorio per il confezionamento, che permetteva al 36enne di preparare una media di circa 65 dosi al giorno. Denunciate in stato di libertà per il reato di favoreggiamento altre otto persone tra i 26 e i 63 anni che, con dichiarazioni false o reticenti, avrebbero ostacolato l'indagine. Valutati gli indizi raccolti, la procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per gli indagati.